Molti sono i dogmi e le credenze che le persone hanno e, ahimè, queste credenze intrappolano le persone e le impediscono di essere il tutto. Si accontentano con le credenze di essere una parte del tutto. E ci sono sempre più credenze che ti intrappolano sempre di più, come in un recinto che diventa sempre più piccolo, dove ti è stata data la possibilità all'inizio di camminare libero e un po' alla volta ti sei messo dei recinti, sempre più piccoli. Pensa, facciamo degli esempi pratici. Pensi di essere italiano qualora tu sia nato o nata in Italia. Eppure, se tu guardi, non c'è nessun confine sulla terra. Non ci sono confini scritti per terra. Sono solo sulle cartine i confini. Ma non solo. Dogmi, credenze religiose. Quindi, da un lato pensi di essere italiano o italiana, dall'altra parte pensi di essere cristiano, buddista, eccetera. E questo crea costantemente divisione, separazione. Separazione da che cosa? Separazione dagli altri e separazione dall'uno. Perché? Perché gli altri non esistono. Quindi se tu sei una cosa, a differenza degli altri, ti stai separando dall'uno. Nelle credenze, nelle convinzioni popolari. Quindi bisogna sposarsi a una certa età, bisogna sposarsi in un determinato modo. Sono giuste delle relazioni di un tipo, di un cert'altro tipo. Uomini con donne, donne con uomini, donne con donne. Qualsiasi cosa tu creda, è una credenza che ti sta limitando, ti sta confinando. Ma non solo. Ci sono credenze culturali, di conoscenza. Quindi è giusto, sbagliato, conoscere determinate cose. Altrimenti viene etichettato come ignorante. E quindi devi sapere determinati argomenti. Altrimenti che cosa succede? Succede che il resto del gregge ti schernisce. Infatti ci sono programmi in merito dove le persone vengono schernite qualora non conoscano determinate faccende. Come se quella faccenda fosse importante. E quindi vieni tacciato come ignorante. Sono solo credenze anche queste. Qualcuno ha ritenuto importante sapere quando è stata l'unità d'Italia. Quando c'è stata la rivoluzione francese. Qualcuno l'ha deciso. Ha deciso che quella data era importante. E se non la conosci, allora sei proprio ignorante. Sei ignorante. E quindi cosa succede? Che vieni schernito. E quindi vieni inserito, qualora differisci dal pensiero comune che è stato riconosciuto, vieni schernito dal gruppo, vieni isolato dal gruppo, vieni allontanato dal gruppo. Ed ecco che ti sei creato un altro pezzettino di recinto con la tua bella conoscenza. E così in tantissime cose. Il cibo, il cibo che mangi. Che cosa mangi? No, ma io sono italiano, mangio la pasta asciutta. In questo momento mi trovo sull'Himalaya e mangiano il dal qua. E una persona l'altro giorno diceva se una persona non mangia il dal non è soddisfatto, non è sazio. È una credenza, una credenza. Tante credenze, tante credenze che ti intrapponano lì. Quindi fai attenzione a tutte queste credenze che ti sono state vendute e tu le hai comprate. Ma il problema è che ti intrappolano lì in un recinto sempre più piccolo, piccolino, piccolino, piccolino. Da Luca Luna è tutto. Noi ci vediamo prossimo audio, prossimo video, prossimo post. Condividi perché è giusto. Ciao.